Emozioni forti, e non solo per il gratificante risultato sportivo di prestigio. Nell'ultimo atto della regular season di football americano, gli Angels Pesaro hanno battuto 41-14 i nuovi grifoni Perugia, conquistando una vittoria che valsa la conquista dei quarti di finale play-off per la promozione in Serie A2. Esultanze che si sono mescolate alla commozione. Quella di Lorenzo Troisi che ha sfoderato una prestazione super segnando un touchdown decisivo all'indomani dell'ultimo saluto a papà Fiorenzo. Già, Fiorenzo Troisi, stimato vigile urbano pesarese in pensione, nonché vecchia gloria degli Angels che era venuto a mancare in settimana. La squadra ha voluto onorarne la memoria dedicandogli un minuto di silenzio prima della partita. Il figlio Lorenzo ha fatto molto di più solcando la svolta del match col terzo touchdown di partita seguito a quelli di Calaf e Marinelli che hanno mandato gli Angels a riposo sul 21-7. Una partita da dentro o fuori messa in discesa a metafrazione, dopodiché coach Gerbaldi ha tenuto alta l'attenzione della truppa accompagnandola verso il 41-14 finale. Tra due settimane si disputeranno i quarti di finale. Dal football americano alla pallavolo continua la campagna di rafforzamento della Megabox Vallefoglia dopo la conquista della Serie A1. La società del presidente Angeli ha annunciato oggi l'ingaggio della 35enne schiacciatrice cubanea Kenya Carcasses, atleta duttile e di grande esperienza che conosce già il campionato italiano avendo militato a Casal Maggiore e Perugia. Nel weekend la Megabox aveva ufficializzato anche l'ingaggio della centrale di Trinidad e Tobago Sined Jack, 20 settembre di 1,98 m, con lunga esperienza nel campionato turco, polacco, ucraino e giapponese.